In attesa del nevone previsto nel Terramano per i prossimi giorni, la provincia di Teramo chiama a raccolta i sindaci dei comuni dell'entroterra, dove qualche fiocco ha già fatto la sua comparsa e con loro predispone un piano di prevenzione e di raccordo. A coordinare la riunione è il presidente Renzo Di Sabatino che spiega come le scorte di sale siano state già posizionate nei punti di stoccaggio e gli accordi raggiunti tra altre province per la gestione di tratti stradali strategici che devono permettere il passaggio dei mezzi di soccorso. Ottimizzare mezzi e uomini è infatti l'obiettivo principale che il piano neve della provincia di Teramo si pone e per questo sarà allestita una sala operativa nella sede di via Capuani dalla quale coordinare un intervento sul territorio. Il tema centrale dell'incontro sul piano neve che si è svolto in provincia di Teramo è stato proprio quello della viabilità in caso di maltempo grave previsto dai meteorologi. L'amministrazione provinciale teramana ha già dislocato i mezzi di sua proprietà nei punti strategici e grazie anche al finanziamento regionale sono state firmate una serie di convenzioni con ditte private che potranno intervenire in caso di necessità. Tutto è dunque pronto per fronteggiare i disagi alla viabilità per l'arrivo della neve a Teramo. Anche la prefettura è in stato di allerta. Si occuperà di segnalare ad ANAS, TERNA, ENEL e gestori telefonici eventuali criticità per evitare il ripetersi degli enormi disagi subiti dai cittadini terramani lo scorso anno. Tanti di loro rimasero senza luce e telefono per oltre dieci giorni, sepolti sotto metri di neve.